C'è chi un giorno invece ha sofferto, e allora ha detto io parto, ma dove vado se parto, sempre a mestro che parto. E la grigia la vita, e la vita l'è bella, l'è bella, a scopere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa, sempre un giorno di festa, ciao! Buonasera pubblico di Vivere la Vita, questa sera la storia di un primario che una volta conclusa la sua esperienza all'interno dell'ospedale di Sulmona si sta dedicando completamente tutto il suo tempo alla terapia del dolore. Noi abbiamo qui con noi i nostri studi Gian Vincenzo D'Andrea, che è il vicepresidente nazionale della Fondazione ISAL. Buonasera e bentrovato. Buonasera, buonasera a voi, grazie. Allora, Vivere la Vita, il motto, il titolo della nostra trasmissione dice tutto, anzitutto la vita dell'ospite che abbiamo in studio. Quindi a tutti colpisce questo passaggio, da primario del reparto di anestesia e reanimazione del nosocomio Peligno, poi a questa nuova avventura che si è aperta, la Fondazione ISAL. Come è avvenuto questo passaggio? Ma si può dire che è avvenuto per prosecuzione, diciamo, di interesse professionale. Io nel corso della mia attività di lavoro all'interno dell'ospedale Isulmona ho sempre pensato che fosse un obbligo per me, ma insomma per i medici in generale, ridurre il dolore, il dolore legato alle diverse condizioni di malattia che poi portavano i pazienti in ospedale. E devo dire la verità che, diciamo, con questo intento, nell'anno 2000 io ritenni che l'ospedale Isulmona potesse diventare uno degli ospedali italiani definiti come ospedale senza dolore. E per fare questo ritenni che fosse possibile mettere in campo una serie di procedure che di fatto abolivano il dolore post-operatorio, quindi tutti i pazienti sottoposti a intervento chirurgico nell'ospedale Isulmona, dal 2000 in poi, sono sottoposti a trattamento di terapia antalgica post-operatoria con evidenti benefici e sollievi, riduzione dell'adegenza, miglioramento delle condizioni generali, più rapido rientra a casa dopo l'esecuzione dell'intervento. Questa mia passione per la terapia del dolore me la sono portato dietro anche a conclusione della mia esperienza lavorativa ed è stato abbastanza semplice in qualche modo entrare a far parte della fondazione Isul che si occupa dal 1993 di terapia del dolore e per cercare di portare l'attenzione generale è un fatto che secondo me è importantissimo che venga conosciuto, ossia che il dolore non è una condanna, il dolore può essere curato è ovvio che per curare bene il dolore bisogna innanzitutto conoscerlo nelle sue diverse manifestazioni per poi impostare la terapia più adeguata e oggi fortunatamente nel 95% dei casi di sindrome dolorose croniche è disponibile una terapia efficace ed è quello che noi vogliamo in qualche modo mettere a disposizione. Beh certo perché poi quale primario non intercetta le istanze, le problematiche e anche i dolori dei singoli pazienti che prende in cura? Quindi credo che questo contatto con il dolore cronico nel suo caso sia arrivato proprio nell'ospedale di Sulmona. Lei vedeva questi pazienti che effettivamente non sapevano come affrontare il problema o no? Certo e spesso e volentieri capitava che pazienti che potevano trarre beneficio da una terapia che abolisse il dolore legato alle varie condizioni di malattia venivano in qualche modo non trattati in maniera adeguata perché l'obiettivo prevalente magari era quello di riuscire a formulare la diagnosi precisa della condizione presente e non si dava particolare importanza al problema che poteva essere più afflittivo per il paziente ossia il dolore. Oggi devo dire che c'è una nuova e più ampia sensibilità nei confronti del problema dolore da parte della classe medica. Devono essere fatti grossi sforzi per cercare di implementare la conoscenza diffusa del dolore, soprattutto del dolore cronico, delle sue tipologie e delle sue peculiarità e quindi anche della diversità delle terapie che devono essere messe in atto. Però vedo che comunque ormai la strada in qualche modo si sta allargando e devo dire anche grazie alla legislazione perché vorrei ricordare che in Italia dal 2010 è vigente una legge, la legge 38 2010 che stabilisce, anzi nel titolo proprio la sua essenza, disposizioni per garantire ai cittadini le cure palliative e la terapia del dolore. Quindi noi abbiamo in Italia una legge dello Stato che stabilisce che il cittadino che soffre di qualsivoglia manifestazione dolorosa cronica ha diritto alle cure del caso e di ciò si dovrebbe occupare il sistema sanitario nazionale. Se mi è consentito, vado ancora un po' sul personale, proprio per vedere la sua vita, quando è scoccata la scintilla, diciamo di dedicarsi completamente alla terapia del dolore. C'è un caso, c'è una storia particolare che lei ricorda, insomma stiamo parlando di tanti anni come primario, però penso che si può ricordare il momento in cui, ecco adesso, insomma c'è questo passaggio e devo cominciare questo percorso. Sì, quando capitò alla mia attenzione professionale il problema di una persona anziana che aveva una patologia artrosica grave, che aveva in qualche modo affrontato il suo percorso di cura con una serie di farmaci che non avevano prodotto effetti particolari né dati benefici significativi e invece il problema era che bisognava cambiare completamente strategia, utilizzare un'altra classe di farmaci e quella persona che per tanto tempo aveva sofferto inutilmente con una terapia adeguata che insomma non era nemmeno troppo difficile da mettere in atto, si può dire che ha ripreso a vivere senza essere costretto a limitare la sua vita proprio dalle costrizioni del dolore. Beh diciamo che il segreto, la ricetta è affrontare il dolore con serenità, anzitutto bisogna conoscerlo per capire anche quale cura, quale terapia intraprendere per poi arrivare alla risoluzione del problema. Io adesso ci facciamo aiutare dalla grafica e dalla regia anche per un report della Fondazione ISAL sui dati del dolore cronico. Io penso che la gran parte della popolazione abbia a che fare con questo, no? Sì, allora i dati del Ministero della Salute, i più recenti, comunicano che in Italia all'incirca il 25% della popolazione soffre di dolore cronico e quando si parla di dolore cronico non si deve intendere in maniera esclusiva il dolore legato a patologie tumorali in fase terminale. Anzi questa, come dire, percentuale di pazienti tumorali in fase terminale afflitti da dolore legato proprio alla malattia tumorale sono una piccola parte della dimensione del dolore cronico. In Italia, dicevo, il Ministero della Salute afferma che sono 13 milioni italiani che soffrono di dolore cronico. La maggior parte sono donne, 8 milioni circa, ma la cosa più stupefacente sulla quale dovremmo tutti riflettere è che lo stesso Ministero afferma che più di 3 milioni di donne non riescono ad accedere alle terapie necessarie per curare le loro manifestazioni dolorose. Credo che questo faccia capire anche l'urgenza di rendere non soltanto accessibili le cure a chi soffre di dolore cronico ma sia soprattutto indispensabile informare tutte quelle persone che sono convinte a torto che il dolore cronico sia una condanna a cui non si può sfuggire, che invece esiste una terapia. Si tratta di identificare bene il dolore per poi mettere in atto la terapia più, come dire, consona. Perché dico questo? Perché spesso e volentieri si fanno degli errori di valutazione. Cerco di spiegarmi meglio. Se lei mi chiede se io possiedo una macchina, io rispondo sì. Quindi chiaramente lei ha capito che io posseggo un veicolo che ha quattro ruote, un motore, che avrà anche, come dire, un volante, però con questa mia risposta semplice lei non sa se io ho una 500 oppure se ho una Bentley. Allora la stessa cosa è quando parliamo di dolore. Se non identifichiamo bene la tipologia di problema rischiamo di non capire qual è la modalità di cura più adeguata per quel problema. Si può andare avanti per anni e anni utilizzando farmaci sbagliati e non ottenendo nessun beneficio. Abbiamo proprio centrato il cuore, la perplessità, credo, di ogni paziente perché dire dolore cronico poi è dire tutto e non dire nulla. Però intanto abbiamo fatto questa classificazione di genere più donne che uomini, più donne che non hanno possibilità di accedere alle cure e alle terapie. Allora qual è l'iter da seguire? Come si cura il dolore cronico? Quindi quali sono i passaggi che il paziente deve compiere per affrontare questo dolore cronico che, le ha ricordato, non scrive la parola fine sulla vita del paziente? Certo. Allora la cosa più importante da fare è recarsi presso un centro di terapia del dolore. Oggi sono presenti in tante strutture ospedaliere anche nella nostra regione, anche presso l'ospedale di Sulmona c'è un ambulatorio di terapia del dolore. essere in qualche modo sottoposti a una valutazione che consenta di identificare la tipologia del dolore e da quel momento in poi mettere in atto la terapia che sicuramente apporterà dei benefici. Oggi è possibile curare in maniera efficace il dolore cronico. In alcuni casi si riesce a ottenere il sollievo pressoché totale. In alcune situazioni questo non è possibile ma il sollievo è significativo nel senso che se si riesce a ridurre le intensità del dolore cronico non come si vorrebbe del 100% o del 90% ma si raggiunge anche un risultato del 60% o del 50% è comunque qualcosa di estremamente importante. quindi prima quando in qualche modo si ha una condizione di dolore cronico ossia quando c'è questo dolore che inizia, prosegue nel tempo non scompare e può avere diciamo livelli di gravità diverse è inutile attendere. La cosa migliore da fare è recarsi presso uno specialista in terapia del dolore perché venga fatta diagnosi della tipologia di dolore per poi iniziare la terapia più adeguata perché altrimenti si fanno degli errori anche madornali io vorrei, se mi è data la possibilità, di citarne uno per la cura del dolore cronico, per esempio, di natura artrosica c'è l'abitudine di far ricorso a farmaci della classe FANS che sono praticamente gli antinfiammatori non steroidei per intenderci e anche per fare dei nomi, così ci capiamo i vari occhi, Voltaren, Brufen, Ketoprofen, eccetera che vengono utilizzati per dolori cronici non è l'indicazione esatta non è assolutamente l'indicazione esatta è un'indicazione completamente sbagliata che non solo è sbagliata quindi per essere sbagliata non è efficace ma è anche pericolosa perché lo stesso Ministero per la Salute ha pubblicato dati che informano come nell'uso cronico di questi farmaci soprattutto nelle persone anziani aumenti in maniera esponenziale il rischio di complicazioni cardiovascolari tipo infarto o ictus cerebrale ora, già questo la dice lunga sulla necessità di affrontare il programma terapeutico per il dolore cronico nella maniera più corretta sapendo che alcuni farmaci che vengono correntemente utilizzati non sono quelli giusti ma sono anche potenzialmente pericolosi ecco allora il consiglio che mi sento di dare è di pregarsi da chi è competente e ce ne abbiamo in Italia tra l'altro poi devo dire che la fondazione ISAL nella propria struttura formativa di Rimini ha formato l'85% degli specialisti del dolore oggi presenti in Italia quindi c'è anche questa attività significativa che noi facciamo a fondazione proprio perché maggiore il numero di medici competenti nella terapia del dolore maggiori sono le possibilità che chi ne soffre riesca a risolvere il proprio problema in tempi rapidi però ecco piuttosto che attendere inutilmente pensando che per risolvere il proprio problema di dolore cronico bisogna andare prima dallo specialistico e magari all'ortopedico e poi dal neurochirurgo e poi si va dal reumatologo e poi magari dall'infettivologo se c'è un problema di dolore cronico lo specialista che deve risolvere il problema del dolore è il terapista del dolore che poi mi permetta uno slogan a questo punto meglio non curarsi che curarsi male perché lei capisce che oltre il danno la beffa quindi la terapia va indirizzata per curare quel tipo di dolore altrimenti noi rischiamo di recare un danno ulteriore che poi porta alle conseguenze che possiamo immaginare perché questo perché lei prima faceva accenno anche sulla necessità sull'importanza ma anche sull'urgenza di una formazione adeguata perché per chi guida per chi insomma deve poi indicare la terapia del dolore se non sbaglio sul Mona ma l'interazione della Valle Pelinia è stata sotto l'accezione positiva al centro dei riflettori per la terapia del dolore grazie a questa scuola che era in astri di partenza assumendo anche una connotazione un carattere europeo da che punto siamo? Allora la situazione lei si riferisce sicuramente alla scuola europea di alta formazione in terapia del dolore esattamente e noi abbiamo presentato questa nostra iniziativa che la riteniamo molto importante perché pensiamo che ci debba essere un come dire una sede in cui i problemi della terapia del dolore che possono presentarsi come dire nella pratica attuazione della terapia stessa i risultati delle nuove ricerche che vengono fatte potessero essere discussi confrontati fra chi in qualche modo ha la maggiore competenza perché poi ne scaturissero dei protocolli di attuazione questa è la nostra idea e rimane un'idea fondamentale a che punto siamo? E punto è questo abbiamo fatto già alcuni corsi formativi rivolti a medici che hanno già iniziato la loro attività presso le strutture sanitarie e sia pubbliche sia anche private convenzionate e dove le cose che hanno in qualche modo imparato diciamo nella nostra scuola le metteranno sicuramente in pratica devo dire che nella realizzazione di questo nostro progetto abbiamo trovato come sempre succede luci cioè delle intoppi e delle agevolazioni luci ed ombre devo dire che anche la scelta che è stata fatta da me in qualche modo sostenuta di una allocazione di una struttura formativa di questa importanza nella nostra realtà mi aspettavo che potesse essere maggiormente compresa dalle istituzioni regionali e poi a seguire le altre devo dire e la cosa purtroppo non è che mi faccia piacere la politica non ha capito l'importanza questo mi sta dicendo io dico che una esatta comprensione del valore del valore di quello che noi pensavamo di realizzare non c'è stato ma devo dire anche che se questo è capitato da parte di qualche istituzione altre invece sono state molto sensibili e molto coinvolte devo dire che la nostra attività si è svolta all'interno della abbazia celestiniana perché il presidente del parco ci ha messo a disposizione quanto era nelle diciamo nostre necessità e quindi noi abbiamo potuto fare perché io vorrei che questa cosa che noi portiamo avanti soprattutto adesso che la fondazione e l'associazione hanno avuto un ulteriore incremento di attività di espansione si riesca a realizzare con le caratteristiche che noi abbiamo pensato devo dire che comunque noi andiamo avanti per la nostra strada e posso anticipare già per esempio che in autunno a ridosso della giornata mondiale 100 città contro il dolore l'evento clou della nostra attività per così dire di informazione che si svolgerà il prossimo 7 ottobre a ridosso di quella data vediamo se riusciamo prima o dopo noi realizzeremo qui sempre a Sulmona un evento molto importante al quale pensiamo di far partecipare anche come dire esperti di fama mondiale il nostro impegno è quello di portare due premi Nobel della medicina a dibattere proprio di problematiche legate al dolore e quindi alla terapia del dolore oltre a altre cose che faremo sicuramente anche ad altri eventi formativi quindi noi non ci fermiamo noi andiamo avanti sempre sempre un fiume in piena come si dice perché bisogna lavorare in tal senso si può ritrovare il sorriso dopo una buona terapia del dolore ecco è un po' il rovescio della medaglia della domanda che le ho fatto poc'anzi dopo una storia che la portare a dedicarsi alla terapia del dolore non so se c'è un'altra storia dove lei magari è fiero di aver intrapreso questa ne potrei citare diverse ma ce n'è una molto bella tra l'altro che è stata anche in qualche modo pubblicata proprio per il suo valore sul nostro sito che è il sito della fondazione per chi volesse in qualche modo informarsi ulteriormente è www.fondazionaisal.it e lì c'è tutto quello che fa capire che cosa siamo e che cosa facciamo ebbene nel nostro sito nella parte relativa al blog sono pubblicate delle storie ce n'è anche una che riguarda una giovane signora di Sulmona una giovane signora di Sulmona che lei ha voluto che fosse anche identificabile perché c'è anche il nome io non lo dico qui per come dire per rispetto ci interessa il caso sì allora questa giovane signora ha raccontato la sua vicenda lei inizia un percorso di sofferenza legato a tutta una serie di fatti precisamente identificati che la porta a soffrire in maniera continuativa di un dolore cronico grave a volte anche gravissimo per 17 anni per 17 anni che ne sconvolge l'esistenza che ne crea un profondo cambiamento anche del suo modo di vivere e che la porta anche a ritenere che la vita non avesse significato in qualche modo riesce a contattarmi si rivolge a me io faccio una valutazione del suo problema e imposto la terapia le faccio presente diciamo che all'inizio è possibile che ci siano alcuni effetti collaterali come si possono verificare utilizzando certi farmaci ma che lei non deve preoccuparsi se va avanti vedrà che tutto si risolve e così succede dopo due settimane e tra l'altro lei afferma che il primo giorno che lei è uscita di casa dopo anni e anni che non usciva per i problemi che aveva è stato quando noi abbiamo fatto la cerimonia di presentazione della nostra scuola europea di alta formazione lì alla Bazzia le coincidenze e da quel momento lei rivive una vita assolutamente normale ecco questo è uno degli esempi che fanno capire come la sofferenza legata a un problema di dolore cronico non è una condanna a vita non è un obbligo ma che esiste la possibilità di essere curato e per essere curato nel modo migliore bisogna in qualche modo essere valutati da chi ha le competenze per farlo nella maniera diciamo più giusta d'altronde credo che in ogni attività per essere fatta bene deve essere in qualche modo fatta dalle persone competenti allora un'ultimissima domanda per uscire fuori tema un po' perché dico un po' perché ultimamente nei pazienti c'è quasi questo stato di disaffezione alla sanità e dipende anche da una classificazione che è stata fatta recentemente dagli amministratori insomma regionali ma anche da quelli nazionali sul presidio ospedaliero di Sulmona ecco lei da ex primario qual è il suo parere da questo punto di vista perché è normale che affidarsi alle cure deve portare a un'inversione di tendenza sì allora io non non credo che sia come dire spetti a me esprimere giudizi sulla qualità delle prestazioni delle terapie quindi delle cure erogate presso l'ospedale di Sulmona posso dire sostanzialmente questo che quanto è stato fatto nel recente passato e io posso parlare di quello che si faceva quando io ed altri colleghi operavamo all'interno dell'ospedale di Sulmona in quel periodo posso anche dire un arco temporale che conosco benissimo per esserci stato dentro anche come protagonista in qualche modo e mi riferisco dagli anni dal 2000 al 2010 anche lì il livello di attività che si svolgeva in ospedale nelle specialità presenti tutte era elevato molto elevato devo dire che poi successivamente sono state compiute delle scelte che di fatto hanno finito oggettivamente per creare nonostante la buona volontà nonostante la qualità professionale dei colleghi è tutta una serie di limitazioni il futuro dell'ospedale di Sulmona è un futuro che è scritto diciamo nei numeri sostanzialmente e quindi l'ospedale di Sulmona del futuro non sarà più per il ventaglio di specialità quello che è stato in quell'epoca e quindi il mio auspicio è che comunque per i bisogni acuti del cittadino l'ospedale di Sulmona riesca comunque a dare delle risposte diciamo adeguate ma sono convinto che tra l'altro insomma questo oggi avvenga perché io conosco i colleghi che lavorano nell'ospedale molti sono colleghi che sono entrati giovani quando c'ero io e adesso sono ampiamente maturati e sono capaci di fare cose di grande qualità e quindi io credo che si possa essere fiduciosi diciamo di avere curi adeguati volevo se ecco riprendendo qualche qualche brano diciamo di una riflessione precedente quello che facciamo noi come fondazione ISA noi facciamo tanto facciamo tanto perché siamo impegnati nel campo della formazione lo abbiamo detto formazione specialistica abbiamo formato l'85% dei medici che si occupano di tappare in dolore in Italia facciamo anche informazione all'esterno la nostra giornata mondiale centro città contro il dolore è un evento che quest'anno raggiungerà 200 località in Italia e nel mondo e quindi nelle piazze nelle strade nei centri commerciali ci saranno postazioni dove viene distribuito materiale informativo ma vengono raccolte anche fondi per per ISA e poi facciamo anche ricerca e tra i nostri ricercatori e hanno verato anche il dottor Vanni Caruso di Sulmona tra l'altro ne abbiamo parlato forse in qualche altra occasione tutto quello che noi facciamo lo facciamo con grande passione con grande impegno ma tutto ciò che facciamo ha un costo e allora io mi permetto di dire che se c'è comprensione per quello che facciamo se se ne capisce l'importanza io vorrei chiedere anche di ricordarsi di noi con una modalità che è abbastanza semplice la donazione del 5 per 1000 per la fondazione ISAL al momento in cui si firma la propria dichiarazione dei redditi devo dire che tantissime persone negli ultimi tempi mi hanno espresso la loro volontà di aderire a questa modalità di sostegno e io li invito se mi consigliate che vorrei fare in questa sede è questo se si capisce l'importanza di quello che stiamo facendo ecco aiutateci perché quando noi parliamo spieghiamo facciamo conoscere i numeri e le persone che in cui parliamo veramente si innamorano di quello che stiamo facendo vorrei citare a titolo di esempio è quello che è capitato con Teresa Desio che è stata protagonista di un eccezionale evento artistico qui al Teatro Caniglia di Summona che quando ha avuto come dire possibilità di sapere da me i dati del dolore cronico in Italia e il grave problema del dolore delle donne si è talmente convinta della bontà dalle nostre iniziative che ha deciso di sostenerci diventando una nostra ambasciatrice ma come lei anche altri hanno deciso di farlo ecco io vorrei semplicemente dire questo se pensate che quello che noi vogliamo fare oltre quello che stiamo facendo per chi soffre di dolore cronico per schiacciare il dolore per ridare dignità all'esistenza di tante persone che vedono la loro vita sconvolta dalle diverse forme di dolore cronico ecco aiutateci perché se aiutate noi avremo maggiore possibilità di aiutare chi si trovi in questa condizione anche perché poi questa non è una causa che si distacca dalla popolazione riguarda invece al contrario tutta la fascia della popolazione quindi il rilievo la connotazione sociale ma è risvolto che anche per la salute per il benessere delle persone credo che ormai sia passato questo messaggio allora io per questa sera ringrazio Gian Vincenzo D'Andrea Vice Presidente Nazionale della Fondazione Isal e quindi ci riaggiorneremo a breve grazie grazie a voi realità grazie dell'attenzione e grazie al nostro pubblico l'appuntamento con la nostra rubrica per la prossima settimana su OndaDV canale 18 del Digitale Terrestre buona serata e viva la vita c'è chi un giorno invece ha sofferto e allora detto io parto ma dove vado se parto sempre a mestro che parto che avvicina la vita e la vita l'è vera l'è vera a scopere l'ombrera l'ombrera ti ripara la testa sempre un giorno di festa ciao